Ben tornati a tutti. Oggi è giovedì, 21 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Pepati in casa, zuccherini fuori. L'animosità prodotta dall'opposizione lunare, che offende anche Mercurio, rende l'atmosfera di casa praticamente irrespirabile. Non che voi siate la vittima, se il partner reagisce male è anche colpa vostra e del vostro impeccabile aplomb che lo manda fuori di testa. Fortuna sfacciata agli esami e nelle trattative con l'estero, dove fate un figurone qualche disavventura invece con la burocrazia e le cause legali, dove imbarba al vostro segno votato alla diplomazia e alla legge, oggi rischiate di non cavare un ragno dal buco. Tenete alti i vostri principi e non fatevi convincere a cambiare rotta, quando la posta in gioco è la giustizia tirate fuori la grinta decise ad andare fino in fondo. Troppa fisicità nei rapporti, il poco sentimento è soffocato da un rapporto di coppia inteso come fisicità. Sono in agguato gelosie, intemperanze, litigi, screzzi e rotture. In amore si aprono crepe evidenti. Discussioni in famiglia, cercate di recuperare la serenità e soprattutto la collaborazione dei vostri parenti più stretti. Oggi fate del bene, ci sono tantissimi modi per farlo. Donando a chi è più povero di voi, dispensando una buona parola, un sorriso, una cortesia. Ne vale davvero la pena. Potreste sperimentare nuovamente la vita da single. Vedrete che tutto sommato non è male. Se siete di quelli che si sentono soli o chiusi in se stessi, non dovete far altro che cambiare qualche piccola abitudine. Marte e Giove favoriranno questo momento di crescita e potreste trovarvi a gestire nuove situazioni nella vostra vita. Un colpo di fortuna sarà possibile. Prova a giocare moderatamente e tenta la fortuna. Un'offerta d'amore di una persona che ti è indifferente ti infastidierà. A volte pochi dubbi possono rovinare una bella storia d'amore. Siete così sicuri di voler restare in questi dubbi e così rischiare di mettere a repentaglio la vostra storia d'amore? Ottime possibilità di ottenere una mansione o un lavoro nuovo, non fermatevi però alle prime ipotesi ma fate in modo da scegliere solo quando avrete le idee ben chiare di attualità, segreti, amori clandestini, situazioni finanziarie nascoste. Vantaggi da alcuni amici. Cura i contatti sociali. Frequenta circoli e associazioni. Giorno poco adatto ai cambiamenti. Cerca di tenere stretto quello che hai. Possibilità di avanzamenti della professione per i nati di sabato e giovedì. Mostratevi più convinti in quello che fate. Lo staff planetario composto da Marte e dal Sole in ottimo aspetto dal Sagittario vi regala una giornata radiosa sotto molti punti di vista, ma in special modo in campo familiare e amicale se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Giornata no, difficile arrivare tranquilli, con tutto il lavoro svolto, a venerdì se sottoposti a tanti dispetti planetari, come l'opposizione della Luna e la quadratura di Mercurio. Le emozioni oggi vi giocano tiri mancini, litigate col partner, vi beccate in famiglia e se avete un'attività in proprio o siete ancora in ballo con trattative fumose, una volta giunti a sera dovete ammettere di non aver concluso granché. Amore ed eros. Se alla guida del rapporto c'è il partner, è perché voi glielo permettete, comodo andare al traino, ma poi non si possono fare rimmostranze. Tutto bene finché ne avete piena fiducia e sapete che sceglierà il meglio anche per voi, ma quando cominciate a criticare le sue decisioni e a dissentire dalla sua linea, è il caso di fermarsi e discutere. Come potete conquistare una bilancia se siete stati trafitti dalle frecce di Cupido? Poesia e leggerezza di tocco non fanno difetto ai figli di Venere in persona, capaci di accostarsi all'altro con equilibrio e gentilezza, ma in grado anche di palesare, pienamente e con coraggio, il loro slancio amoroso, quando questo slancio sia fiorito. Per conquistare loro cuore occorre molta eleganza, tanto tatto, e insieme anche qualche mossa spregiudicata che li spiazzi e li confonda. Siete pronti a giocarvi queste carte? E in che modo i cantanti della bilancia si esprimono quando parlano d'amore? Tanti gli artisti che hanno cantato e scritto l'amore, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Scopriamo il talento di Neffa, di Caparezza, di Alice Visconti. Lavoro e denaro? Giornata pesante, qualcosa non vi torna, sentire attorno a voi parlottare a mezza voce vi irrita profondamente. Troppi non detti e segreti a metà, di cui gli altri non vogliono mettervi a parte, temendo forse la vostra reazione. Il sole in splendida posizione, in special modo se siete nati dal 3 al 9 di ottobre, vi fa organizzare mentalmente il lavoro che vi spetta nei prossimi giorni aiutandovi a faticare di meno. Venere in Scorpione è il pianeta che vi infonde il meritato relax. Benessere. Altro punto scuro della giornata. Per mantenervi in equilibrio fate di tutto, dieta senza glutine, bandite formaggi e salumi, assumete la giusta dose di integratori eppure vi sentite stonati come una campana e quando lo spirito è confuso e insoddisfatto, anche il corpo segue la stessa direzione. Terapia, un bello romanzo in cui tuffarsi per dimenticare. Denaro? Vi dedicate ai vostri interessi sportivi con il vostro tipico equilibrio. Gli sport in cui vi piacerà allinarvi sono il tennis, il golf e il nuoto. Per lei, lavori di ripristino da programmare e decidere senza litigare, anche se voi la vedete in un modo e il vostro lui in un altro. Tempo per pensarci ce n'è, si comincia dopo la Befana. Per lui, se lavorate con un socio fate caso alle parole, braci rancorose covano sotto la cenere. Ma come, a dicembre non si dovrebbe diventare tutti buoni. Colore delle emozioni, rosso granato. Barometro dell'umore, nuvoloso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 8, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie.